Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nella mattinata di lunedì 20 febbraio a Senigallia, ha preso parte all'inaugurazione dei laboratori dell'Istituto Corinaldesi Padovano, che in seguito all'alluvione del settembre scorso erano inagibili. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana e la vice direttrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, che con la raccolta fondi Un Aiuto Subito hanno contribuito alla sistemazione degli spazi alluvionati. L'inaugurazione di oggi è un segno palese di risposte che viene grazie alla generosità di tanti cittadini che nel giornale del 15, del 16 e nei giorni successivi di settembre dello scorso anno hanno dato un contributo per il tramite della 7 e Corriere della Sera alla nostra Regione e poi sono stati devoluti a questa scuola. È importante perché per il tramite della loro generosità si è riuscito a dare una risposta da un istituto scolastico a 700 alunni che ritrovano una quotidianità, una normalità e il loro diritto allo studio. Spesa complessiva dell'impresa 580 mila euro di cui 500 mila frutto della raccolta fondi targata RCS e 80 mila della provincia. La giornata di oggi, al di là di ufficialmente ridare i laboratori agli studenti, in realtà credo che segna un modo di lavorare importante, nel senso è stato un gioco di squadra tra Regione e provincia istituto scolastico e grazie appunto alla donazione di RCS siamo riusciti in brevissimo tempo a ridare questi laboratori. Il focus per noi è stato subito non far perdere un anno scolastico a degli studenti che frequentavano il Bettino Padovano perché ovviamente una scuola professionale senza laboratori significa non poter esercitare il proprio diritto allo studio. Quello che mi preme sottolineare appunto qui interviene anche l'efficienza di quello che sono gli uffici provinciali perché noi abbiamo avuto il finanziamento a fine novembre e già il 6 gennaio l'80% dei laboratori erano stati ridati agli studenti, il restante 10% o 20% lo abbiamo terminato un due settimane fa. Quindi è positivo il messaggio della beneficenza e della solidarietà dell'Italia tutta verso la tragica alluvione di Senigallia ma credo che sia altrettanto positivo aver dimostrato l'efficienza nel portare a terra questo contributo. Io credo che entro Pasqua avremmo riaperto tutte le infrastrutture viarie che erano oggetto di danni di sommorgenza, fatto salvo che appunto ne rimangono solo due perché le restanti 12 infrastrutture già le abbiamo riaperte. Rimangono ovviamente ad affrontare, ma qui è una questione di finanziamenti che adesso si stanno sbloccando, quelli che sono i ponti danneggiati in maniera strutturale quindi vanno ricostruiti, in primis il ponte del Copeto per il quale già siamo partiti, stiamo partendo con la progettazione, contiamo se riusciamo a mantenere i tempi che ci siamo dati anche con il commissario straordinario di iniziare i lavori per l'estate. Grazie. 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 Grazie.